Gloria al Signore. Bene, cari, grazie Pastore Petroni e sono contentissimo di dare il mio contributo con la parola del Signore. Questa sera desidero parlarvi del testamento spirituale. Faremo riferimento primariamente a 2 Timoteo, capitolo 4. L'Apostolo Paolo sta parlando con Timoteo, il suo figlio spirituale, quando sa che oramai il tempo della sua ripartita per il cielo sia prossima. In altre parole sta rilasciando il suo messaggio principale, il suo testamento spirituale. Normalmente quando una persona è in procinto di andarsene col Signore cosa fa? Non parla di cose di importanza secondaria ma affronta delle tematiche importanti, pratiche, che vuole condividere con chi lascia. Ebbene l'Apostolo Paolo aveva con Timoteo questa relazione padre figlio dal punto di vista spirituale. Timoteo a sua volta era anche lui un padre spirituale perché era vescovo, aveva sotto la sua autorità e cura soprattutto diverse comunità. E cosa dice il suo papà spirituale l'Apostolo Paolo a questo giovane servitore del Signore? Lo leggiamo in seconda lettera di Timoteo al capitolo 4. L'Apostolo Paolo inizia dicendo, predica la parola, nel verso 2, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole ma tu si vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. L'Apostolo Paolo quindi dà al suo figlio spirituale queste indicazioni. Poco fa il pastore Petrone parlava del fatto che siamo negli ultimi tempi e parlava del fatto che ci sono i segni che dimostrano che veramente la venuta del Signore Gesù è prossima. Ebbene, credo questo sia un messaggio importante in questo tempo e credo anche che ci sia la guida dello Spirito Santo perché ovviamente io non avevo alcuna idea che il pastore parlasse di questo perché ciò che l'Apostolo Paolo dice a Timotio è più che mai vero in questa epoca nella quale noi viviamo, appunto in quella degli ultimi tempi. Verso 5 sii vigilante ma tu sii vigilante perché? Perché negli ultimi tempi non sopporteranno la santa dottrina o la sana dottrina. L'Apostolo Paolo procede poi e prosegue nel verso 6 dicendo questo è quello che devi fare tu Timotio. Quanto a me, e qui andiamo nel cuore del messaggio di stasera, io sto per offerto in libazione il tempo della mia partenza è giunto, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Questa è veramente molto molto importante questa seconda parte, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Paolo sta dicendo cosa lo caratterizza, ha vissuto la vita facendo cosa? Combattendo il buon combattimento e sempre l'Apostolo Paolo altrove dice combattete il buon combattimento della fede. Quindi Paolo che sta per approcciare la sua dipartita rilascia alla Chiesa e in primis al leader della Chiesa il messaggio più importante, quello che è più indispensabile in quel momento. Mentre uno se ne sta andando non parla di quisfiglie, parla di cose veramente importanti e cosa è veramente importante? Combattere il buon combattimento della fede. Cos'è il combattimento della fede? Una versione dice il combattimento per la fede. Questa espressione può avere due tipi di significati, combattimento della fede nel senso che la fede è lo strumento attraverso il quale si combatte, quindi è l'arma che si utilizza per combattere e certamente questo è un aspetto perché lo stesso Apostolo Paolo parlando in Efesini dell'armatura del cristiano parla dello scudo della fede, quindi la fede è un'arma allo stesso tempo il combattimento per la fede, cioè per conservare la fede, per proteggere la fede, ma questi due concetti vanno insieme perché proprio per il fatto che la fede è uno strumento di guerra è ciò che viene attaccato di più. Se due eserciti si confrontano e uno dei due ha una superarma sarà interesse e priorità primaria dell'altro esercito di distruggergli ciò che più teme, l'arma più importante. In pratica se due nazioni si confrontano cosa vanno a distruggere? Gli arsenali vanno a distruggere le armi letali, quelli più pericolose, la fede è un'arma pericolosa per il mondo spirituale, per il nemico delle anime nostre. Ecco perché l'Apostolo Giovanni ha detto con chiarezza ora questo è ciò che ha vinto il mondo, la vostra fede. Non è quindi da meravigliarsi se il nemico cerca di distruggere la fede. Ecco perché bisogna combattere sì il buon combattimento della fede, cioè utilizzando la fede ma bisogna combattere il buon combattimento per la fede, per difendere la fede, per proteggere la fede, per potenziare la fede, per aumentare la fede, per fortificare la fede. Oggi più che mai miei cari la fede viene attaccata e sapete l'Apostolo Paolo dice con chiarezza in Seconda Corinzi capitolo 4 dal verso 6 al verso 8, cosa bisogna sapere sulla fede? Seconda Corinzi capitolo 4 dal verso 6 al verso 8, ve lo voglio leggere perché è veramente importante, dice così capitolo 4 6 a 8 perché chiedo scusa, devo... ecco sì, vi chiedo veramente scusa perché questo è il passo sbagliato, ho citato un passo sbagliato, mi perdonerete, vediamo un po' in Prima Corinzi, se non lo troviamo non è un problema perché lo posso tranquillamente citare direttamente, Prima Corinzi capitolo 4 6 a 8, no niente chiedo scusa veramente, in pratica si tratta di quel passo che dice ora la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola del Signore, allora stiamo dicendo che la fede è l'arma vincente per sconfiggere il nemico, ma questa fede proprio perché è un'arma vincente viene attaccata perché possa essere indebolita se non addirittura distrutta e quindi ecco che l'Apostolo Paolo ci dice come alimentare la fede, qual è la sorgente della fede, cosa può fortificare la fede, la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola del Signore. Ora questo concetto è importante perché ciò che noi udiamo, genera in noi poi fede o dubbio, gli scienziati, gli studiosi, gli psicologi, gli psichiatri e addirittura i sociologi che studiano diciamo le attività nella società, nell'essere umano, nelle comunicazioni ci dicono con chiarezza che quando noi siamo sottoposti a messaggi negativi, negative e negativi noi ci deprimiamo e ci scoraggiamo, quindi quando il messaggio, la parola che noi ascoltiamo è negativa quella tende a portare scoraggiamento, tende a portare dubbio, negatività, al contrario quando si ascolta qualcosa di incoraggiante, di stimolante, noi abbiamo fiducia, ci rianimiamo e combattiamo e nella stessa maniera noi possiamo avere la nostra fede fortificata. Ora noi non ascoltiamo solo le parole degli esseri umani, le parole nostre che scriviamo, che pronunciamo, che dichiariamo, ma noi ascoltiamo anche delle parole spiritualmente parlando con le nostre orecchie spirituali perché le parole umane gerano pensieri, a volte i pensieri vengono instillati dal nemico stesso se non dalla società e dalle circostanze e quindi queste parole, questi messaggi operano nella nostra mente e portano scoraggiamento, quindi opposto di fede, portano come dire abbattimento emotivo, depressione e quindi negatività. Invece al contrario, quando noi ascoltiamo la parola di Dio che ci dice chi Dio è, quello che Dio può fare, la potenza che Dio ha messo a disposizione di ognuno di noi, la nostra fede aumenta e noi siamo in grado di combattere con la fede e distruggere il nemico attraverso la nostra fede. Questo è ciò che ha vinto il mondo, la vostra fede. Ecco perché il nemico cerca di disturbare e distruggere la nostra fede. Oggi si sentono tanti discorsi, oggi si ascoltano tanti messaggi. Se voi andate a vedere attraverso i social, facebook, youtube, whatsapp, gruppi qui, gruppi là, ne sorgono di continuo. Ogni giorno noi, dico se è andato a vedere, vediamo che ci sono messaggi scoraggianti, deprimenti. Ora io non voglio entrare in discorsi del tipo covid, no covid, vax, no vax, pro vax, no vax, pro mask, no mask, perché tutto questo non porta a nulla, ma questo è solo un esempio per dire che tanti messaggi che arrivano portano le persone a scoraggiarsi e poi c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro e si crea solo confusione. Qual è il risultato di tutto questo? La fede scende. Le persone oggi non leggono la parola del Signore, le persone oggi non ascoltano la parola di Dio, le persone oggi non passano del tempo a riflettere e a meditare sulla parola del Signore ed ecco che il nemico indebolisce la nostra fede. Quando questo non basta non si limita solo ad allontanarci dalla fonte della fede, cioè la parola, ma distrugge quel poco di fede che già abbiamo, con il risultato che noi non abbiamo più fede, ma questa sera noi proclamiamo nel nome di Gesù che vogliamo avere fede nel Signore. Alleluia! La fede è una bomba atomica nel mondo spirituale. Per fede, dice l'Apostolo Paolo, che le persone hanno riottenuto i propri morti. Per fede, dice l'Apostolo Paolo, che hanno attraversato mari e fiumi, per fede hanno visto opere potenti. La fede è l'arma vincente, ma questa fede va protetta. Ecco perché l'Apostolo Paolo, parlando di se stesso, dice io ho combattuto il buon combattimento. Alleluia! Io ho combattuto il buon combattimento. In Seconda Corinzi dice io vi incido a combattere il buon combattimento della fede. E poi Paolo, tornando a Timodio, dice non solo ho combattuto il buon combattimento, ma ho osservato la fede. Questa parola, servare, significa conservare, ma significa anche proteggere. Per conservare bisogna proteggere. Voi sapete molto bene che i cibi, per esempio, vengono conservati. Perché vengono conservati? Per essere protetti dal decadimento, dai batteri e da quant'altro. Quindi è molto molto importante proteggere la nostra fede. L'Apostolo Paolo, parlando a Timodio, enfatizza questa necessità di proteggere la fede. Io questa sera vi incito, miei cari, a proteggere la vostra fede, a proteggerla dagli attacchi del nemico, perché oggi il modo di operare è molto più subdolo, molto più subdolo di quello del passato, perché il nemico sa molto molto bene che se lui può insinuare il dubbio, piano piano, piano piano, poi porterà alla distruzione della fede. Quando non riesce a farlo, lui manda i problemi, le difficoltà, e io ci tengo a dire secondo me questo virus, questa situazione che poi il Signore trasformerà per il nostro bene è partito dall'inferno, perché c'è un vero e proprio attacco alla fede. Oggi le chiese hanno difficoltà a riunirsi, le persone hanno difficoltà ad andare in chiesa per paura del covid e ovviamente bisogna fare attenzione, bisogna mettere in atto tutte le necessarie attività di protezione, ma cosa sta succedendo? Le persone vengono, come dire, private della parola del Signore e quindi la loro fede cosa fa? Si deperisce, la loro fede si indebolisce, ma allora fratelli miei nel Signore noi vogliamo incitare ciascuno di voi e ciascuno di noi ad aggrapparci alla parola del Signore, alleluia, aggrapparci alla parola del Signore, perché la parola del Signore genera in noi fede, la parola del Signore fortifica la nostra fede. Dicevo la fede va protetta. Quando noi vediamo che ci sono, sentiamo messaggi che tendono a indebolire la nostra fede, dobbiamo immediatamente bloccare quei messaggi. Parlo di messaggi nella mente, parlo di messaggi verbali, acustici, messaggi che vengono propagati dalla televisione, dai media, parlo di messaggi che vengono insinuati attraverso i talk show e se ne esce veramente depressi e scoraggiati, ma noi facciamoci animo e fortifichiamo la nostra fede, alleluia. Nella mia definizione la fede è ascoltare la voce di Dio, crederci ed agire di conseguenza. Lo ripeto, ascoltare la voce di Dio, crederci e agire di conseguenza. Allora la fede distrugge gli attacchi del nemico. L'Apostolo Paolo dice nella lettera agli ebrei che la fede, lo scudo della fede, serve a spegnere i dardi infuocati del nemico. Quali sono questi dardi infuocati? Sono quegli eventi, quelle situazioni, quelle di strette difficoltà, ma anche quei pensieri che hanno lo scopo di distruggere la nostra fede e di instillare in noi il dubbio. Il dubbio è il contrario della fede. Ecco perché l'Apostolo Paolo ci incita a combattere il buon combattimento della fede, a proteggere la nostra fede, alleluia, a proteggere la fede. Oggi si sentono tanti discorsi denigratori rispetto a coloro che credono, mentre la psicologia tente e tenta di risolvere i problemi esistenziali, gran parte delle volte senza riuscirci, ultimamente ha dovuto ammettere che coloro che hanno fede automaticamente hanno più forze di affrontare le difficoltà. Ovviamente loro cercano di dare una spiegazione scientifica, hanno ovviamente delle conoscenze, studiano i meccanismi attraverso i quali il cervello rilascia delle endorfine e altre sostanze che portano l'uomo, l'essere umano a fortificarsi, a reagire in modo determinato alle situazioni perché hanno fede e quindi credono, gli scienziati credono che siano queste endorfine, queste sostanze di chi crede a combattere le situazioni. Quindi come se una persona crede e quindi queste endorfine le aiutano, per esempio ci sono altre sostanze. In effetti quello che io so e credo dalla parola di Dio è seppure ci sono dei risultati nel nostro corpo e delle conseguenze positive nel nostro corpo grazie alla fede, ma il motore, la causa principale di questa forza che ci viene addosso è spirituale perché la fede è una forza spirituale, la fede è un'arma spirituale. Allora come resistere a questi attacchi che abbiamo in questi giorni? Accendiamo la televisione la mattina presto e si parla di covid, andiamo a pranzo, andiamo a lavoro, andiamo a pranzo, accendiamo la televisione e si parla di covid. Durante la mattinata e durante il pomeriggio, la sera, torniamo dal lavoro, accendiamo la televisione mentre ceniamo, cosa che sconsiglio di fare è sentiamo parlare di covid, di morte, di ospedali pieni, di problemi economici, finanziari, di collassero economico di questo, di quell'altra nazione, di problemi tra le nazioni, guerre, cataclismi, tutte cose che stanno succedendo, ma tutte queste notizie ci bloccano, ci paralizzano. Allora come reagiamo? Attraverso la fede. Stasera il messaggio è il testamento dell'Apostolo Paolo è come ho fatto io, Timotio, fa anche tu, io ho combattuto il buon combattimento e ho servata, ho conservata la fede. Pensate voi che l'Apostolo Paolo non abbia avuto problemi? Ora ascoltate, io non sto qui a parlare se le situazioni nelle quali viviamo oggi sono segni dell'anticristo, del ritorno di Cristo, benché ovviamente gli anticristi ci sono sempre stati perché lo spirito dell'anticristo è sempre stato sulla faccia della terra, ma ovviamente però una cosa è certa che si tratta dell'avvicinarsi dell'anticristo o meno, che si tratta degli ultimissimi tempi o meno, una cosa è certa, i problemi ci sono, le situazioni ci sono, ma l'Apostolo Paolo non pensate che abbia vissuto problemi inferiori, l'Apostolo Paolo ha scritto diverse sue epistole dal carcere con la minaccia di essere ucciso e la lettera che ha scritto a Timotio sembra l'abbia scritto proprio dal carcere e quindi lui sapeva che da un momento all'altro sarebbe arrivato qualche soldato per dirgli usciamo fuori e gli avrebbe tagliato la testa, cosa che poi è avvenuto. Perché vi sto dicendo questo? Perché non era facile per Paolo, ecco perché dice io ho osservato la fede, perché Paolo era passato per esperienze difficili, per minacce, per percorse, incarceramenti, attacchi fisici, verbali, mentali, di ogni tipo, ma l'Apostolo Paolo aveva serbata la fede, aveva conservato la fede, adesso sta lasciando il suo testamento al suo figliuolo spirituale, gli sta lasciando lo strumento più importante, perché come lui Paolo, così anche Timotio potesse alla fine essere vincitore, come? Serbando la fede. Mie cari nel Signore, se questa sera la nostra fede è indebolita, se stasera noi ci sentiamo scoraggiati, io proclamo nel nome di Gesù, alleluia, che è la parola di Dio che ascoltate stasera, instillerà in voi fede, instillerà in voi resistenza, alleluia, forza spirituale, perché la fede che è in voi vince il mondo. Allora io voglio concludere pregando il Signore per ciascuno di voi, alleluia. Paolo aveva avvertito Timotio, Timotio bisogna soffrire per l'Evangelo, oggi si predica un Evangelo senza sofferenza, attenzione io non voglio qui tornare ad essere, cioè non voglio tornare ad essere una di quelle persone che parlano della sofferenza come di una cosa positiva che noi dobbiamo cercare, noi non dobbiamo cercare la sofferenza, dobbiamo cercare la vita di Cristo, ma essere cristiani riporta anche le sofferenze. La bella notizia è che noi vinciamo attraverso la fede, anzi le sofferenze che provano la nostra fede finiscono con il rafforzare la nostra fede, alleluia, la nostra fede ne esce fuori più forte di prima, ma nello stesso tempo se noi non attingiamo la nostra forza dalla parola di Dio, dalla relazione personale con Dio attraverso la preghiera, dalla relazione con Dio attraverso il corpo di Cristo che è la Chiesa, noi ci indeboliamo e la nostra fede diventa debole e quindi non riusciamo a vincere. Ma io stasera prego nel nome di Gesù, Padre, fa che ci sia un cambiamento di direzione, fa che ci sia un cambiamento di rotta nel cuore di ognuno di noi. Prego per ogni fratello, ogni sorella che mi sta ascoltando, che ha perso fiducia, che ha perso fede o che si sente incapace, debole, no tu non lo accusi, no tu non la disprezzi, ma tu l'accogli e tu la incoraggi come l'Apostolo Paolo ha incoraggiato Timoteo. Alleluia! Così come io ho osservato la fede, così tu Timoteo, così tu Pietro, così tu Francesco, così tu Andrea, chiunque tu sia, così tu Deborah, donna di Dio, serva la fede, conserva la fede, alimenta la fede, fortifica la fede, difendi la fede, perché c'è un momento nel quale la nostra fede deve essere difesa dagli attacchi del nemico affinché tu possa avere la vittoria. Chiesa del Signore, o possa tu ricevere una porzione soprannaturale della fede. In questa sede non c'è tempo di parlarne, ne parleremo in qualche altra riunione, ma la fede è anche uno dei doni dello Spirito, la fede come dono dello Spirito è quella fede speciale che ti viene in un momento speciale, quando la fede che tu già hai in possesso non è sufficiente. Allora in modo soprannaturale lo Spirito di Dio scende su di te e tu ricevi la fede necessaria e forse in mezzo a noi ci sono persone in questo momento che hanno bisogno di quella fede. Oh gloria al Signore, non posso far a meno di pensare a Pietro che passa davanti alla Portabella del Tempio, davanti alla quale Portabella aveva visto tante volte quella persona che aveva bisogno di elemosina, forse gli aveva dato qualche moneta, ma adesso insieme a Giovanni le cose cambiano perché Pietro è stato alla presenza di Dio, alleluia, è stato alla presenza del Signore, ha ricevuto lo Spirito Santo e adesso Pietro dice oro, argento non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammine. Cosa era successo? La fede, il dono della fede si era messo in azione e quel dono della fede aveva generato miracoli e il Signore attraverso la fede aveva vinto il male, aveva vinto la malattia, ha vinto la paralisi di quell'uomo e la vita di quell'uomo è cambiata. Alleluia, Signore, rilascia questo dono della fede sulla Tua Chiesa in questo tempo così difficile. Padre, quei pastori scoraggiati per il Covid, quei pastori scoraggiati perché i credenti non vanno più in chiesa a causa del timore del Covid. Padre, quelle famiglie che non hanno il coraggio di portare i bambini alla scuola domenicale. Padre, ti prego nel nome di Gesù che ci sia un rilascio della Tua fede, della Tua potenza, della Tua gloria. Alleluia, e che la Chiesa possa camminare nella potenza, nell'unzione e nell'autorità che la Tua parola ha garantito. Alleluia, sì Signore, un battesimo di fede. Fortifica la nostra fede, fortifica la nostra fede, stabilizza la nostra fede, farà crescere la nostra fede, Signore. Alleluia, e in questo momento sentono lo spirito che ci sono persone che sentono qualcosa di diverso avvenire nella loro vita. Ora sta succedendo, è qualcosa che non hanno mai sentito prima. Si sentono più forti, si sentono di poter affrontare quella difficoltà che fino a qualche istante fa non riuscivano neanche a pensare, ma ora sentono una forza. Bella notizia, fratello, sorella, è la fede che si sta muovendo nel tuo cuore. Alleluia, nel nome di Gesù. Padre, fa che chiudiamo le orecchie alle brutte parole negative che vengono da destra e da sinistra e invece apriamo le nostre orecchie alla parola del Signore che genera in noi fede. Dio dice noi crediamo, agiamo di conseguenza e Lui opera. La fede è ascoltare la parola di Dio, crederci e vivere di conseguenza. Che il Signore vi aiuti a combattere il buon combattimento della fede. Amen. Alleluia. Grazie.